Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di una novità, Enrico Papi che torna a Mediaset. Dopo tanti anni ricordiamo che Enrico Papi era stato licenziato, se possiamo dire così, dall'azienda di Cologna Monzese perché sono state tirate fuori delle truffe in un programma che conduceva lui. E quindi, siccome era implicata appunto la società di Enrico Papi, lui era stato licenziato da Mediaset. Poi, dopo qualche anno, è approdato tramite Sky Italia su TV8 dove appunto ha condotto programmi di successo che sono West My Age, indovina l'età, e Name the Tune, indovina la canzone. L'ultima edizione di West My Age non è stata particolarmente brillante in termini di ascolti, però comunque è un programma di punta e di successo della rete TV8. Con il ritorno a Mediaset di Enrico Papi, che dovrebbe condurne, secondo le voci che girano su internet, ma si può dire che oramai è una cosa ufficiale, manca solo appunto l'uscita dei palinsesti a luglio, però possiamo dire che è una cosa ufficiale, condurrà appunto scherzi a parte e un nuovo programma che ancora non è dato sapere di che cosa si tratterà. Quindi staremo a vedere che programma sarà, se sarà legato alla musica oppure tratterà di qualche altro tema. Quindi che fine fa invece West My Age? West My Age ovviamente ci sarà ancora, sempre su TV8, ma la conduzione la prenderà il buon Max Giusti. Max Giusti che ricordiamo conduceva su nove già programmi tipo Boom e che adesso condurrà West My Age su TV8, quindi prenderà il posto di Enrico Papi. Quindi questa era la notizia del video di oggi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!